Abbiamo iniziato quest'anno a lavorare. I piani di trattamento accettati ad oggi sono 135.000 euro. Questi sono in cassa, più o meno altrettanti stanno arrivando. Ora passiamo, perché qui abbiamo la presenza in sala, del dottor Luca Bernardini, che è un dentista, che ha una specializzazione. Il brand che lui ha si chiama Dentalift, perché qual è il concetto? Che dal sorriso nasce l'età della faccia. Rappresentato questo è il suo funnel, dove noi prendiamo le persone, le mandiamo su una landing, gli mandiamo il nostro paccone. Il paccone del dottor Bernardini è fatto in questo modo. Ci sono tutta una serie di componenti e poi ci sono dei bonus dentro, che poi servono per portare le persone alla prima visita. I piani di trattamento accettati ad oggi sono 135.000 euro. Anzi, io ho fatto mettere quelli in cassa, però sono doppi arcate, la seconda è da fare, era sui 300 e rotti 1.000. Questi sono quelli che adesso sono in cassa e poi ci sono in realtà piani di trattamento accettati che devono entrare in produzione. Noi siamo gli unici che mettiamo fuori i numeri promozionari a ribasso. Non facciamo sconti del 50% sul gratuito, come fanno gli altri. Quando iniziamo le campagne, noi soprattutto vi rompiamo molto le scasole. Molto. Molto. Ma è nel vostro interesse. Però lo facciamo a fin di bene. Ma siamo coscienti del fatto che è un cambiamento importante per un'azienda, avere dentro un CRM e avere delle procedure. Nel tempo si apprezzano anche i risultati che si ottengono e anche il fatto che comunque lo studio in genere prende un ritmo. Abbiamo iniziato, stiamo andando bene, siamo felici di quello che stiamo facendo. Fra l'altro avremo un'altra Mastermind a breve, a novembre. Ho fatto la Mastermind due anni fa. Poi quando Frank mi ha dato il brand, io in realtà ho detto però questo è figo, ci vuole uno studio figo. Hai fatto lo studio. Esatto. E che comunque stiamo parlando di una persona che applica, lui ha rifatto lo studio. Perché dopo che Frank gli ha dato il brand Dentalift, lui ha rifatto lo studio. C'è lo studio classico al primo piano di un palazzo. Ok. E quindi abbiamo preso il locale a piano terra, su strada, otto vetrine. Ok. E quindi stiamo parlando di una persona che studia e si applica. Lui ha fatto anche il Master prima. Sì. Ok. Lui giustamente sta investendo perché sa che poi dopo gli riformano indietro. Perché dietro c'è un sistema. Il bello è che quando avete preso il ritmo diventa una macchina, diventa prevedibile. E quindi abbiamo già 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 già